Salve, sono Lorenzo Bianchini, regista del film Oltreguado. Un saluto a tutti da parte mia e da parte di tutta la produzione. Noi siamo veramente onorati di partecipare a questo prestigioso festival e ringraziamo di cuore tutti gli organizzatori e il pubblico presente. Ci dispiace veramente non essere potuti venire di persona. Comunque ci auguriamo con il nostro film di farvi passare un'ora e mezza di divertimento. E quindi buona visione a tutti. Ciao!